ciao ragazzi finalmente è arrivato il nuovo easy cut di take sport che ho avuto piacere di provarlo in questa settimana molto molto semplice molto utile perché suddivide molto bene il tape in 2 3 4 5 striscioline adesso andremo a vedere come funziona si inserisce il tape e in questo verso andiamo a tagliare 5 o 2 dall'altra parte invece 3 o 4 e voilà il gioco è fatto